Bene ragazzi, siamo qua oggi a Vicenza, nel Veneto. Qua alla mia sinistra ci sono Dimitri e Yuri, alla mia destra invece Loris, che sono rispettivamente i capi squadra dei Armessi in Treviso e Davies Dog Veneto. Quindi ragazzi, iniziamo subito con la Challenge di Back Pressure. I ragazzi sono già riscaldati, inizieremo con 40 kg. Poi dopo la Challenge andremo a fare altre sfide di presa, magari quello di Omega, di Grimper, e faremo anche poi di tira al tavolo, magari con qualche sfida. Allora, possiamo iniziare? Loris, apre le danze? Va bene. Perfetto, dai, iniziamo ragazzi. Grazie a tutti. Sono cose importanti. 40 kg. Allora, innanzitutto, sì li hai alzati ma se hai il tuo braccio è proprio l'ematore. L'importante è che tu ti dispugno, sempre il pello alto con la spalla. Non si scende sotto la spalla del motore. Quindi poi mi trovo l'angazzo al tavolo. Vai Loris, vai vai vai. Dai, dai, dai. Sì, sembravano buoni questi, sembravano buoni. Buono? Sì, sì, sembravano buoni. Molto bravo Loris. Bravo. 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 Sono pesanti questi ragazzi, sono veramente pesanti. Sono pesanti, no? Sì, 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 è una pesa regolare questa. Sì, perché non è sì. Eh no, devi tenerlo sopra il pollice, dentro. No, ma non per qualcosa, perché sennò gli altri poi... Voi ha imbrogliato. Ma teniamola guarda per tutti. Bravo. Puoi fare il doppio giro, eh. Puoi fare il doppio giro ma tenilo dentro. Ah, ok. Non sotto. Vabbè, te la diamo buona. Perché te l'hai fatto a tre i pochi. Perché sei cura. Eh, che prossimo è cura. Allora non ti fai così. Uiii. Uuuuh. Ehi, tiri, tiri. Una va benissimo. Cosa? Eh sì. Qua. Eh, si vede proprio che la tracchiamo. Guarda, guarda. Grazie. Mamma mia, tengo un legarder. Eh, sinistro. Qui sembra uno avanzato, un po' sempre. Lui, per il suo peso, ha una mano incredibile. Per il suo peso, ha una mano pazzesca. Dai. E' impostato veramente bene. Mi manca in questa posizione più di forza. E' qua. No, sinistro. Bravo, bravo. E' qua. E' qua. Li stai su con la mano. E' qua. Io ti voglio solo sbagliare. Niente fatto. All'inizio. Uuuuuh. Buona guarda. Spor. Bravo. Bene, bene. Bene, bene. Bene, bene, bene. Bene, bene. Bene. Bene, bene. Bene. Bene, bene. Bene, bene. Sì, è stato un'esistenza. C'è il limite di porto. C'è il limite di porto. È buono. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Bravo. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Grazie a tutti. Bravo, Alessio. Il mio confederà ce l'ha? Sì. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Grazie a tutti. 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 Lui pesa 53 kg. Dovresti cercare di stare il più dritto possibile. Non far scendere la mano, però comunque per 55 fili è... Ciao! È lì! È lì! È lì! È lì! È lì! Bravo! Bravo! Vai José! È lì! È lì, è lì di sinistro! Bene, bravo! Bravo! È lì, è lì di sinistro! Bene, bravo! Grazie a tutti. 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 tutti. ok. go. go. a tutti. go. 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 . go. go. . go. . .